Anticipata ad oggi la conferenza stampa del tecnico del Pescara Alberto Colombo, lunedì sera alle 20.30 il posticipo all'uscida di Crotone, tutti a disposizione con l'eccezione di Pellacani. Il tecnico Biancazzurro in conferenza stampa ha detto di avere anche qualche dubbio di formazione, in realtà l'unico interrogativo riguarda il ruolo di terzino sinistro, giocherà uno tra Crescenzi e Milani, per il resto conferma dell'undici che ha giocato contro il Latina. Ha parlato poco di mercato il tecnico Biancazzurro, si è soffermato soprattutto sull'atteggiamento che deve avere la squadra a Crotone, voglio vedere una squadra coraggiosa, l'aggressione in certi momenti della partita dovrà essere feroce, ha detto il tecnico Biancazzurro. E poi parole ed elogio per Cosimo Chiricò, l'ex Lanciano che guida il reparto offensivo del Crotone. Ascoltiamo con le immagini di Diego Martelli i passaggi chiave della conferenza stampa del tecnico Biancazzurro. Buongiorno mister, solida domanda su come stanno i ragazzi e che minutaggio hanno Colai e Palmiero che erano quelli un po' più indietro, grazie. Allora, la squadra è al completo, salvo Pellacani abbiamo recuperato tutti gli effettivi, minutaggio magari è difficile dirlo con estrema precisione, però credo che uno spezzone di partita, purché non si avvicini a quello che è successo per esempio in casa con in Latina, come atteggiamento deve essere buono, insomma, come minutaggio. Non uno spezzone, una mezz'ora, credo che per entrambi possano esserci e possano darci il loro contributo. Ripeto, mi interessa l'impegno, non è sempre facile quando uno entra riesca ad incidere, ma è chiaro che deve anche dare un segnale di voler conquistare più minutaggio nelle partite successive. L'obiettivo è quello di fare il risultato, oggi come oggi abbiamo estrema necessità di questo, fare il risultato attraverso una buona prestazione, questo sarebbe l'ideale in un periodo nero come questo, e confrontarci con chi sta facendo un grandissimo campionato per avere ancora o ritrovare, chiamiamolo così, quella fiducia nelle nostre possibilità. La vorrei inquadrare come una partita per poter accorciare, anche se il distacco oggi è palesemente ampio, ma dobbiamo cercare di ridurre il gap, perché poi quello che è successo a noi potrebbe, usiamo il condizionale, succedere anche ad altri. A me piacerebbe ripetere la partita in termini di prestazione dell'andata, sicuramente con degli aspetti da migliorare, come quella può essere della pericolosità offensiva, ma gagliarda, ordinata, con una squadra che aveva personalità e leggerezza in quel periodo. Quindi piacerebbe vedere questo tipo di Pescara anche in questa partita. Dal punto di vista delle possibili scelte per la partita di lunedì, si è ancora qualche dubbio se ci sarà fondamentale anche la rifinitura di domani, e tatticamente rivedremo questo Pescara sbarazzino che va a prendere alto gli avversari, nonostante il Crotone sia una squadra blasonata, oppure non guarda l'avversario e vuole vedere il suo Pescara. Grazie. Sarebbe l'ideale per quello che abbiamo appena detto, quindi partendo dall'ultima domanda, al di là dell'altezza è proprio il concetto di una squadra che può, magari, posso dire, non deve per forza andare in avanti lasciando praterie, ma con un concetto ben preciso di pressione. Questo sì, quindi possiamo anche concedere, non dico campo, ma delle giocate, ma quando poi la squadra percepisce che c'è una situazione studiata o preparata, e allora l'aggressione deve essere feroce, c'è chi non si deve far saltare, deve essere un blocco granitico, quindi sotto questo aspetto credo che sia... ci auguriamo di vedere questo tipo di Pescara coraggioso, anche quando non ha la palla. Per le scelte sì, non dico che sia determinante la rifinitura, perché le idee possono esserci chiare, c'è ancora qualche dubbio in qualche posizione, ma in realtà l'obiettivo è di dare continuità alla prestazione sia di Avellino che di Latina, contro Latina nel primo tempo. Quindi l'obiettivo vero non è chi gioca, ma è cercare di allungare il minutaggio della prestazione positiva, perché se l'abbiamo fatto, ripeto, stando stretti il primo tempo di Latina, il secondo tempo di Avellino, dobbiamo cercare di essere più continui in questo tipo di prestazione. Il loro valore e la loro forza, non credo che debba spiegare a qualcuno che tipo di squadra è il Crotone, però sicuramente dà l'impressione, rispetto facendo un paragone, di una squadra cinica che non riesce magari a realizzare con la continuità del Catanzaro, ma è molto concreta, molto solida e poi sa comunque trovare diverse soluzioni anche nelle partite dove si va verso un equilibrio più duraturo, perché anche nelle palle inattive hanno giocatori di struttura, quindi è una squadra forte, sicuramente con più soluzioni e dà l'impressione appunto di essere solida e consapevole della propria forza. Chiave della partita studiata per limitare Chiricò? Chiricò è un giocatore che negli uno contro uno ha dimostrato nella sua carriera quanto possa essere determinante. Chiaro che due sono le soluzioni, trovare i raddoppi per limitarlo quando entra in possesso palla oppure essere così bravi da far sì che i rifornimenti arrivino in maniera limitata nei suoi riguardi. Però è un giocatore che poi quando entrerà in moto, in azione, è sempre temibile.